19, seconda. Azione! Torna Woody Allen con una romantica commedia. La mia amica la trova la cosa più favolosa dopo la pillola del giorno dopo. New York non è mai stata così attraente. La vita reale è per chi non sa fare di meglio. Un giorno di pioggia a New York, al cinema.